Oggi vogliamo in Marocco! Prepariamo Mkhamfar! Mkhamfar è un buonissimo pancake senza latte e senza uova Una via di mezzo tra bagrir e sfinge marocchini Sono sofficissimi, molto semplici da preparare ma soprattutto troppo buoni In una ciotola metti farina 00, semuna rimacinata di grano duro Lievito di birra, zucchero, un po' di sale, lievito per dolci, olio di semi e lega il tutto con acqua tiepida Trovi tutte le dosi in descrizione Mescola bene con una frusta per eliminare tutti i grumi, copri con pellicola e lascia riposare 20 minuti Fino ad ottenere questo risultato Prepara una padella, spennella con olio di semi e mettila a riscaldare Versaci due mestoli di composto e cuoci due minuti per lato Prima di girare aggiungi un po' di olio in superficie, serve per dare colore e croccantezza Il risultato finale sarà questo Ricetta buonissima, fammi sapere se la proverai!